già nella prima puntata di ballando con le stelle ci sono state scintille tra selvaggia lucarelli e teo mammucari adesso i due hanno ancora più infervorito i loro rapporti la lucarelli ha accusato il presentatore di parlare troppo e di lasciare poco spazio a lei e i suoi colleghi tu non fai parlare ha esordito la lucarelli ha interrotto tutti noi ogni tre secondi poi balli anche bene io sono qui a fare la giurata tu non hai ancora compreso bene che sei stato chiamato a fare il concorrente ma mokari non ha preso benissimo il discorso della lucarelli e ha risposto tirando in ballo la sua esperienza a tusiche vales il programma che diretto competitor di ballando guarda che io il giurato l'ho fatto selvaggia ora sono venuto qui per mettermi in gioco poi sono qui anche per intrattenere il pubblico se li faccio ridere io sono contento ha detto dopo queste parole nonostante selvaggia avesse detto al presentatore di ballare anche bene ha dato uno zero come voto questo zero non ha senso attuanato mammucari dimostra il limite dell'antipatia e della simpatia non si può dare zero dopo questa esibizione il mio zero è perché tu non sai ancora fare il concorrente ha risposto selvaggia ebbene tra selvaggia e mammucari ne vedremo delle belle e tu da che parte stai